Molto attiva la vastesse sul fronte mercato di Serie D. Intanto nei giorni scorsi è stata riempita la casella lasciata sguarnita dall'addio di Francesco Micciola, il nuovo DS e Ferdinando Ruffini, il dirigente giugliese dopo aver trascorso una vita nella pescara calcio, occupandosi per lo più di settore giovanile, nella scorsa stagione ha lavorato nel Francavilla del patron Gilberto Candeloro come club manager. L'esperienza si è interrotta anche se i rapporti con Candeloro sono rimasti cordiali. Come cordiali da svariati mesi lo sono i rapporti tra il presidente della vastesse Franco Bolami e lo stesso Candeloro. Così non sorprende la scelta Ruffini che ora, assieme al neotecnico Ottavio Palladini, avrà modo di pianificare la prossima stagione in una piazza che vive di calcio, che ha disputato due positive stagioni ma entrambe contraddistinte da un grande inizio ed un vistoso calo nel girone di ritorno. Un trend possibilmente da invertire. Il primo acquisto è stato quello dell'esperto difensore classe 91 Pietro Maria del Duca che ha ampi trascorsi tra Serie C e Serie D e lo scorso anno ha indossato la maglia del campo basso. Altri due colpi sono vicini, uno è quello del trentenne fantasista Giordano Napolano che ritroverebbe come allenatore proprio Palladini col quale ai tempi della San Benedettese Napolano ha espresso il meglio della sua carriera. L'opportunità giusta per il riscatto dopo le ultime annate in chiaroscuro. L'altro è Filippo Bellini, mediano classe 98, riduce dal successo nell'ultimo campionato con la Vispesaro. Potrebbe raccogliere l'eredità lasciata da Pizzutelli. Movimenti dirigenziali anche da Vezzano dove l'avvocato Carlo Iacoviti, uno dei più stretti collaboratori del presidente Gianni Paris e già direttore generale, ora diventa il direttore sportivo della società marsicana che d'altro canto continua nella politica dei rinnovi. In questa settimana è toccato al centrocampista Lorenzo Bianciardi e ai gemelli Morgan e Denis Besana. Infine resta piuttosto difficile la situazione all'Aquila. Il manager romano Gianluca Ius vorrebbe stringere i tempi ma chiede aiuto anche al tessuto economico e bancario della città. Così il comune vuole vederci chiaro e ha chiesto allo stesso Ius nelle prossime 48 ore ulteriori delucidazioni sul suo progetto di rilancio della società aquilana. Chiarezza che vogliono anche i tifosi per nulla tranquillizzati dalle ultime esperienze calcistiche dell'imprenditore romano.